Inaz è l'azienda italiana di riferimento per la gestione e l'amministrazione delle risorse umane, sempre orientata all'innovazione, con soluzioni software, con servizi supportati da una rete capillare di specialisti e con un aggiornatissimo centro studi normativo, nelle aziende, negli studi professionali, negli enti pubblici, nelle strutture sanitarie e nelle associazioni di categoria. Con 500 esperti, i nostri centri di ricerca ci consentono di sviluppare soluzioni in linea con le esigenze dei clienti, con lo sviluppo delle nuove tecnologie e le trasformazioni del contesto normativo. Più di 10.000 i clienti che si sono già rivolti ai nostri specialisti per avere una vista dinamica sull'organizzazione delle risorse umane e sulle loro potenzialità, al fine di enfatizzare il valore delle persone e delle loro competenze in azienda, per gestire le presenze e le assenze del personale, per pianificare i turni, per programmare le trasferte e le missioni, per gestire l'organico della pubblica amministrazione sia da un punto di vista economico che giuridico, per orientarsi nella simulazione di scenari futuri e per l'elaborazione delle parti. Più di 10.000 le organizzazioni che le nostre soluzioni di amministrazione e di gestione del personale hanno reso più funzionale al conseguimento dei propri obiettivi, con azienda.net, enti.net, studio.net e altri servizi che ora potrete scoprire. Inaz vi mette a disposizione tutta la competenza che ha maturato nel settore, in cui la vostra prima risorsa sono le persone. Inaz, un'azienda di persone per le persone.